Emergono nuovi elementi sul giallo di Ofena dopo il ritrovamento del corpo senza vita dell'allevatore 28enne Emiliano Palmeri, trovato impiccato in una scarpata a pochi passi da casa, dopo che, nella notte tra il 19 e il 20 aprile, era stato trovato ferito alla testa con una pistola da macello in un oliveto di sua proprietà. Un ferimento per il quale era stato operato e da poco dimesso dall'ospedale. Una vicenda intricata, il giovane non ha lasciato biglietti innanzitutto e sul corpo, dopo una prima ricognizione del medico Giuseppe Calvisi, non sono stati trovati segni di violenza, ma soli i risultati dell'autopsia fatta ieri pomeriggio potranno chiarire meglio le cose accompagnati dagli esami tossicologici e istologici sui tessuti. Il RIS sta analizzando anche le pistole sequestrate in vari allevamenti tra Ofena a Castel del Monte dopo il ferimento del giovane. Lui stesso era proprietario di alcune armi. Palmeri, come si ricorderà, aveva accusato un imprenditore del suo settore di Castel del Monte dopo il ferimento. Aveva dichiarato di averlo visto in faccia, anche se l'alibi fornito dall'uomo aveva lasciato molti dubbi negli inquirenti. L'uomo, che risulta comunque indagato, è difeso dal legale aquilano Fabio Alessandroni. Gli inquirenti indagano anche sui due cavalli di Palmeri, trovati morti, mentre lui era ricoverato in ospedale. Per gli investigatori è probabile che si sia trattato di un gesto volontario, ma si percorrono tutte le piste, anche se sul luogo della tragedia non sono stati rilevati elementi tali da far pensare alla presenza di altri. Il giovane allevatore potrebbe essere stato anche minacciato e indotto al suicidio. Per questo si stanno ascoltando amici e familiari per capire se si fosse confidato con qualcuno. Gli investigatori, in base all'ora del decesso, cercheranno di ricostruire le sue ultime ore di vita dalla scomparsa, attingendo pure dai dati del suo cellulare. L'ultima a vederlo è stata la fidanzata Maria Ragni, che era con lui prima della scomparsa. Stavano dando da mangiare ad un puledro fuori dall'abitazione di Palmeri. Lei ha raccontato che il fidanzato si è poi allontanato all'improvviso, facendo perdere le tracce. Lei stessa ha allertato le ricerche, alle quali hanno partecipato anche molti paesani di Ofena e Navelli. La sua testimonianza è ritenuta essenziale. I funerali ci saranno domani, probabilmente nella palestra comunale messa a disposizione dal sindaco Antonio Silveri. Apparentemente il ragazzo era sereno, pieno di vita e progetti, un grande lavoratore. La comunità di Ofena è sconvolta. Nelle stesse ore in cui si consumava la tragedia, la famiglia è stata colpita da un altro grave lutto. Si è spento lo zio, il fratello della mamma, storico imprenditore anche lui, di fonte vetica a campo imperatore.